Al mio segnale, scatenate l'inferno, sono le parole che hanno iscritto Russell Crowe nell'Olimpo del Cinema Mondiale, un ruolo, quello del generale gladiatore Massimo X Meridio, che ha segnato più di una generazione e ovviamente anche la carriera del divo australiano. Nato nel 1964 da Alex e Jocelyn addetti al servizio catering sui set cinematografici, Crowe respira sin da piccolo l'odore della celluloide. All'età di otto anni recita il ruolo di un orfano nel serial tv Spy Force e a 17 decide di lasciare il liceo per inseguire il sogno di una carriera nello showbiz. Indeciso fra fare musica e recitazione, continua nel tempo a coltivarle entrambe. Il debutto sul grande schermo è del 1990 con il film The Crossing. Durante la lavorazione incontra la consorte, Daniel Spencer, dal loro rapporto nasceranno due figli, Charles e Tennyson. Il 1997 è l'anno della svolta. La memorabile performance del brutale Detective White nel corrottissimo noir LA Confidential lo impone all'attenzione di pubblico e critica. Alle soglie del 2000 arriva il gladiatore di Ridley Scott. Il ruolo gli frutterà un Oscar, meritato anche per la passione con cui, sono parole sue, si impegna a modificare insieme al regista una sceneggiatura che all'inizio non li convince proprio. Seguono A Beautiful Mind, Master e Commander, Cinderella Man e moltissimi altri film. La sua passione resta però la musica, binario parallelo al cinema. Lo porta a suonare in tutto il mondo e gli regala moltissime soddisfazioni. Una sorta di ritorno a casa, proprio come quello sognato da Massimo, decimo meridio. Tornerò presto, permesso. Ed è con grande piacere che diamo il benvenuto su Rai 1 a Russell Crowe. Buon pomeriggio. Ma è vero che il suo... Eccoci qui. È vero che il suo nome da ragazzo quando faceva il musicista era Russell Lerock. Lerock. Beh, Russell Lerock era un personaggio che ho interpretato quando avevo tra i 16 e i 19 anni. In quel periodo lavoravo in un knight, un anacronistico knight degli anni 50, in cui avevano tutti un soprannoglio. Io ero il più giovane e quindi l'hanno affibbiato a me. Un soprannome davvero stupido con cui ho dovuto convivere, che però in realtà ho usato come nome d'arte per diversi anni. Poi l'ho messo via e sono tornato a usare il mio vero nome quando avevo 21 anni circa. La musica l'ha sempre accompagnata. Ecco, è anche, non so, un'espressione di libertà per lei? Beh, è un po' come il teatro, come quando alcuni attori tra un film e l'altro scelgono il teatro e fanno una stagione di Shakespeare, Arthur Miller o altro. Io di teatro ne ho fatto molto, ma sono cresciuto suonando in una band e come dicevi, durante tutta la mia carriera, a prescindere dai successi, dalla vittoria dell'Oscar o quant'altro, continuo a fare concerti. Comunque nel rock trovi sicuramente un senso di libertà, a differenza del teatro, dove hai il pubblico dal vivo, ma i dialoghi sono programmati. In un concerto rock, invece, non sai mai quello che succederà. Non sai mai dove ti porterà l'energia. Questo tour che abbiamo appena terminato in Australia, abbiamo fatto 17 concerti, ha visto la partecipazione di ospiti incredibili. Non so se ne avete sentito parlare, ma di recente, nel fine settimana, è salito con noi sul palco del teatro dell'opera Michael Bublé, che la sera dopo ha suonato in un piccolo bar universitario strapieno di 850 persone. E si alzate e ha suonato con noi Rita Ora. È un po' una tradizione per questa band, perché in passato abbiamo avuto personaggi come Elvis Costello, come Sting. È un'ottima band con musicisti fantastici, con cui gli altri musicisti si relazionano. Da questo tour ho imparato che forse sto un po' invecchiando. Ma no! Le tourney sono roba da giovani. È stato piuttosto difficile. Però adesso non vedo l'ora di fare questi concerti in Italia. Sarà divertente. E noi saremo divertitissimi di seguirvi con lei. Vediamo in questa clip appunto come lei invita a seguire i concerti del Bagnagrecia Festival. Non so se il tempo è quando si può vedere questo. Buongiorno. Oh, buonasera. Sono molto contento di aprire il tour italiano con la mia band, Indogazio Party, e Catenzaro, e celebrare i 20 anni del Magna Grecia Film Festival. Vi aspettiamo il 20 giugno al Teatro Politiama di Catenzaro. Il perfetto Catanzaro di Russell Crowe. Senta, in uno dei suoi ruoli ha interpretato Noè, uno dei patriarchi biblici, e so che lei continua una ricerca spirituale molto fitta, molto profonda. Perché? Io preferisco la fede alle altre opzioni. Ho studiato molto le diverse religioni del mondo. Io non sono una persona religiosa. Non credo necessariamente che tu o io o qualsiasi altro individuo abbiamo bisogno di un intermediario per comunicare con Dio. Dio è disponibile e se ci credi devi capire che è disponibile per tutti. La mia nel tempo è stata una ricerca personale complessa per molti aspetti. Ora però vedo le cose in modo semplice. scelgo la fede, scelgo di credere. È molto comprensibile. Senta, ovviamente con il gladiatore lei è diventato un idolo soprattutto per Roma e per i romani. Ricorda qualche aneddoto in particolare di quel periodo di quando lei venne anche a Roma? Beh, credo fosse nel 2000 due o tre mesi dopo l'uscita del gladiatore avevo avuto un discreto successo il film aveva attirato grande attenzione e io avevo guadagnato un sacco di soldi ottime recensioni eccetera eccetera ero a Roma via del via del corso? via del corso entro in questo negozio e come in tanti di quei negozi di lusso comprare qualcosa è facile ma poi aspettare mentre paghi e ti incartano l'articolo ci vuole un'eternità alla fine quando sono uscito la strada era piena di gente stracolma e c'era la polizia con i mitra mi sono chiesto ma che succede? mi sono avvicinato a uno di questi ragazzi gli ho chiesto parla inglese e lui ha risposto un po' allora gli ho chiesto ma che succede? lui mi ha guardato e si è messo a ridere mi ha detto gradiatore sei tu quello che succede senta ma quindi se il suo rapporto con Roma è ottimo com'è invece il suo rapporto con l'Italia? le piace l'Italia? assolutamente sì io amo l'Italia e amo il privilegio di avere il rapporto che ho con i romani perché mi trattano tutti come se fossi un loro zio o un parente è tutto molto bello e piacevole ovunque vada sono tutti carini con me hanno sempre voglia di parlare continuano a parlarmi pure i tifosi della Roma anche se sanno che io tifo Lazio complimenti per la pronuncia di Lazio e per le sue nozioni di italiano ma l'ho studiato anche un po' l'italiano? lo parla? un po' lo parlo però è molto più facile quando sono sul posto non ho mai fatto un corso di italiano non ho mai imparato la grammatica ma mi sorprendo sempre quando sono circondato dagli italiani per quanto riesco a capire e a comunicare oggi però è stata una giornata particolarmente lunga e difficile quindi... ma no che non è stanco per niente lei ha due figli Charles e Tennyson che tipo di papà è? è una domanda enorme spero di essere il padre di cui hanno bisogno che cosa ha imparato da suo padre che ha trasmesso ai suoi figli? beh ci sono migliaia di cose una delle grandi qualità di mio padre che ora non c'è più è che lui è sempre stato consapevole che io avrei seguito la mia strada e anche quando era un po' preoccupato per i rischi che avrei potuto correre nella mia carriera lui mi ha sempre appoggiato non so se lui abbia mai creduto a quello che io ritenevo possibile però non me lo ha mai fatto capire non mi ha mai detto che qualcosa fosse impossibile mi ha lasciato provare e io sapevo che se le cose non fossero andate come volevo sarei sempre potuto tornare dai miei genitori e ricevere un sostegno positivo come poi è successo nella mia carriera le cose sono andate piuttosto bene direi quando papà era vivo io ho dato ai miei genitori molta gioia hanno viaggiato per il mondo conoscendo bene città come Roma Parigi e Londra cosa che non si aspettavano di fare da grandi io a parte la Nuova Zelanda e l'Australia non avevo visto nessun altro paese del mondo fino a circa 27 anni ebbi il mio primo ruolo da protagonista in un film solo a 25 anni pur lavorando come attore dall'età di 6 come dicevo mio padre era un uomo molto fermo e a modo suo molto solidale è stato molto divertente festeggiare i miei successi con lui era una persona a cui piaceva tanto fare in modo che i traguardi importanti e i successi venissero festeggiati e il giorno il giorno dell'Oscar era con lei ha fatto in tempo a vederlo? c'era c'era era tra il pubblico insieme a mamma c'è un curioso aneddoto da raccontare su mia madre era la notte degli Oscar e gli studios avevano messo a disposizione una truccatrice per mamma che è stata ore e ore a truccarla quando la vedi io era molto truccata aveva delle ciglia enormi io vinsi l'Oscar e lei si commosse tantissimo tornato dal backstage andai tra il pubblico per cercarla e loro erano in fondo abbracciai papà e mamma e lei stava ancora piangendo aveva un qualcosa di strano sul viso sembrava strano le chiesi cosa c'è che non va e lei oh tesoro mi sono pianta le ciglia ma che meraviglia che tenerezza mi perdoni c'è una domanda sciocca che non posso non farle le è mai capitato di dire o di pensare al mio segnale scatenate l'inferno l'ho fatto tante volte non uso per forza quelle stesse parole ma a volte nella vita devi lottare a volte è una battaglia e devi fare quello che serve per risolvere le cose di sicuro canzone italiana preferita oh my lord mamma mia forse è la preferita di tutti il blu dipinto del blu vogliamo ripetere l'invito a questo concerto che si avvicina? vi prego mi rivolgo a tutti i catanzaresi veniamo a fare un concerto il 20 giugno al teatro Politeama ho detto bene? sì al teatro Politeama il 20 giugno venite a vedere gli indoor garden party sarà molto divertente non vedo l'ora di essere a Catanzaro non ci sono mai stato sarà davvero emozionante e noi non vediamo l'ora di averla qui di nuovo qui in Italia peraltro lei Aldo a Sanremo vorrebbe tornarci un giorno a Sanremo su quel palco sarebbe fantastico abbiamo suonato lì era il 2002 2001 2001 non ricordo bene è passato tanto tempo ma sì è stato fantastico e sono sicuro che lo rifaremmo sicuramente se ci invitassero certo prima di salutarci un desiderio da condividere con il pubblico italiano il mio desiderio più grande adesso è che ci sia il pienone a Catanzaro un super pienone l'aspettiamo e ci godiamo in quest'ultima clip sempre Russell Crowe che suona arrivederci a presto grazie mille ciao 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 grazie a tutti Oh, but it's a beautiful girl That's why it'll never work You'll have me suicidal, suicidal When you say it's over Damn, all these beautiful girls They only wanna do you dirt They'll have you suicidal, suicidal You'll have you suicidal